Salve a tutti ragazzi Bentornati a un nuovo video Spero che vi sia piaciuto questo nuovo intro Ci ho messo due giorni a lavorarci tramite Illustrator, Photoshop e montaggi vari Non faccio video a riguardo perché non mi ritengo un professionista in materia Io sono più per il disegno manuale Ma intendo matita, penna e il cavolo che mi pare Tutto tranne il grafico Quest'intro l'ho voluto sviluppare così ma non mi ritengo un professionista in poche parole Ho modificato l'intro levandoli il tripapaneo finale Per ritorizzarlo nell'intro parlato in questo modo Ovvero il tripapaneo a tutti ragazzi bentornati in un nuovo video E così va meglio In modo che tramite questa frase Io venga riconosciuto Facilmente Non so cosa significa questa frase Non lo sanno i miei amici perché è da dieci anni che la utilizziamo È nata così per gioco e via E si è utilizzata Potete spammarla nei commenti YouTube, Instagram, Facebook Con hashtag tripapadeo Come sta scritto qua in mezzo E... Arriviamo al dunque Io oggi non avevo una minima idea di che cosa disegnare O meglio per dire la verità avevo due idee Ovvero disegnare le skin di Fortnite Tra cui qualcuna in particolare Ma... Volevo chiedervi Mi pare se vorreste a vedere dei video del genere Quindi commentate nei commenti E fatemi sapere se vorreste a vedere i video E in caso anche quali skin vorreste a vedere Oggi andremo a riportare i disegni riguardanti i Pokémon Ovvero L'evoluzione di Bulbasaur In tutte le sue evoluzioni Siete curiosi di vedere cosa ne uscirà fuori A questa bellissima testa brillante A vedere che video si è nella fine E buona visione Essendo che in questo momento sto compiando Il Bulbasaur del gioco Del Game Boy O comunque sia del Nintendo Advance Io ho la figura in sé Sgranata a livelli estremi Però cercherò di riportarlo nel miglior modo possibile Vediamo Oggi verrebbe l'assenza delle mie facce di curo Con il mio disegno Comunque ragazzi volevo ringraziarvi Tutti quanti Siamo arrivati a 54 iscritti A breve so che può sembrare una stronzata Però non la faccio lo stesso Farò lo speciale a 50 iscritti Quindi cerchiamo di salire il più possibile con gli iscritti Che man mano che andremo Diventeremo più sporti Come staremo in mondo Ecco qua ci siamo Non ci crederete mai La GoPro non ha registrato tutta questa parte Ma meno male per me Che era solo la bozza Però me l'ho contenuto compagnia per un po' dai Porca da Questo è il punto in cui siamo arrivati Lo potrete ben vedere A che in poche parole Ho quasi fatto tutta la bozza Però Ora la potrete vedere a metto termino E poi passiamo all'inchiostrazione Che sarà la penultima La ultima parte Ora vediamo Grazie a tutti Grazie a tutti Ho solo 11 minuti di tempo Perché l'altra memoria sta finendo Baby Dove le fare raper Grazie a tutti Grazie a tutti Bello ragazzi video è finito Spero che vi sia piaciuto Bello ragazzi tipologia, un'altra giomodra tipologia, così via. Spero il più grande tempo possibile, iscriviti al canale se non l'hai già fatto, clicca sulla campanella qua sotto per ricevere notifiche ogni volta che carico un video, commenta qua sotto nei commenti un qualcosa che vuoi che faccia nel prossimo video, vai a vedere gli altri video se ancora non l'hai visti, tra cui challenge, parorie, e noi ci si vedremo nel prossimo video. Bella raga! Ciao!